Estate, via i vestiti lunghi! Ma io ho la cellulite! Capisco, ma chi non ha la cellulite alzi la mano! La temuta cellulite non è solo un inestetismo, ma uno squilibrio fisiologico. Dobbiamo fare come dicono i saggi orientali. Se curiamo le cause, eliminiamo gli effetti. E allora combattiamo le cause della cellulite. Cosa dobbiamo fare? Lo stile di vita non adatto ai tessuti del nostro corpo causa la cellulite. Come prima cosa, attenzione al cibo! I cibi peggiori sono eccesso di sale, zuccheri, condimenti grassi, formaggi e proteine animali. Poi aumentare la quantità di frutta e verdura cruda ogni giorno. Altri nemici sono caffè, alcol, bibite gassate e fumo. Meglio bere tanta acqua naturale, lontano dai pasti, almeno 2 litri. Camminare ogni giorno per almeno 30 minuti con passo sostenuto. Usare rimedi naturali, quelli drenanti e depurativi. Al mattino estratto liquido di betulla da bere con la bottiglietta d'acqua. A pranzo estratto di centella prima di mangiare. Dopo cena, tisana di tarassaco. Trucchetto prima di fare la doccia. Passare sulla pelle asciutta una spazzola per il corpo sulle zone colpite dalla cellulite. Fare leggeri movimenti circolari. E concludere la doccia con un bel getto freddo per almeno 4 minuti. Eh ma che esagerato! Ogni giorno così per un mese e i risultati si vedranno molto presto. E in più, ti sentirai meglio? Se ami la salute naturale, metti un mi piace e condividi questo video. Prendi il sano naturalmente. Ciao! Non è solo un ne... Via! That's my destiny. Non è solo un ne...